Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di Bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi ovviamente facciamo subitissimo il giro diamo oggi chi vince? vince Carlos facciamo subito il giro ecco qui il giro da ruota vediamo quindi cosa hai vinto e vinci il deltaplano di Batman ti ricordo di iscrivermi su Instagram ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News per andare a vedere un sacco di informazioni soprattutto inerente ragazzi a pinnacoli pendenti la data di quando potrebbe arrivare come sarà insomma tutte le informazioni che abbiamo al momento parliamo anche dell'aggiornamento 19.10 e poi ragazzi anche una nuova location che dovrebbe presto arrivare in mappa detto questo prima di iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti lascio un bel like vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissati in alto e detto questo direi che possiamo subitissimo incominciare con tutte le novità iniziamo quindi ragazzi con la primissima novità che riguarda il razzo infatti l'avrete sicuramente notato esattamente in questa postazione in questo luogo vicino ai 7 no? nella loro base come ben sapete era diciamo stato costruito il primo razzo tuttavia però oggi non è più presente infatti secondo i vari leaker il primo razzo che abbiamo visto dei 7 è stato lanciato durante proprio questa notte ed è andato insomma nello spazio a raccogliere gli elementi essenziali del tempo di guerra così aveva detto infatti lo scienziato in una sua missione e praticamente dovrebbe tornare ragazzi più tardi per la parte 2 della missione di questa settimana quindi attualmente è partito si trova nello spazio raccoglierà quindi delle informazioni questo razzo e a breve sicuramente lo vedremo tornare entro fine settimana quindi ragazzi il razzo è partito probabilmente verranno anche costruiti con il tempo sicuramente altri razzi infatti come ben sapete abbiamo 7 botole che fanno ovviamente riferimento sempre di 7 no? e ogni botola ovviamente partirà e sembrerebbe che quindi raccoglierà delle informazioni dallo spazio per portarle ovviamente qui in quest'isola di Fortnite quindi vedremo quello che succederà comunque molto molto carina come idea sarebbe stata ancora più bella se c'erano proprio del clip no? quindi dei eventi tra virgolette dal vivo dove il razzo partiva si vedeva tutta l'animazione però comunque ce lo facciamo andare bene anche così dai ovviamente il tutto secondo me si collega all'evento finale di questa stagione sì è vero è ancora presto per dire che ci sarà un evento finale però da quello che possiamo vedere si sta muovendo molto soprattutto per quello che riguarda la storia di Fortnite dei 7 dell'ordine che poi sappiamo che ritornerà nella mappa eccetera quindi secondo me è un evento di fine stagione anche perché dura fino a marzo quindi c'è molto tempo potrebbe già esserci insomma un evento finale e attenzione ragazzi mi è arrivata proprio da pochissimi secondi un'altra news proprio per quello che riguarda il secondo razzo che partirà infatti come possiamo vedere un altro portellone è stato aperto quindi confermato che ogni razzo partirà e molto probabilmente il secondo ragazzi partirà settimana prossima questo perché in alcuni audio dello scienziato esso afferma che il primo razzo lanciato ha fallito la missione ma ne hanno uno ancora più grande con più telescopi che uscirà dal portellone probabilmente la settimana prossima quindi abbiamo un super spoiler quindi praticamente il primo razzo avrà diciamo dei problemi quindi probabilmente fallirà la missione per questo primo razzo il secondo lo rimpiazzerà e sembrerebbe essere molto più potente lo vedremo ragazzuoli settimana prossima adesso ci spostiamo dall'argomento dei razzi ne andremo comunque ad approfondire nei prossimi giorni per quello che riguarda insomma tutta questa storia e parliamo di Boba Fett ieri è stato rilasciato nel negozio di oggetti l'abbiamo visto c'è il suo bundle ma hanno anche rilasciato un trailer e come possiamo vedere nel trailer ragazzi si intravede proprio innanzitutto una nuova location infatti sembrerebbe essere una nuova location che varrà giunta nel deserto infatti vediamo che è ambientata nel deserto quindi arriverà esattamente in questa location e poi come possiamo vedere è stato anche svelato diciamo il dinosauro uno dei tanti probabilmente dinosauri che arriverà sull'isola di Fortnite magari questo sarà proprio diciamo un posto dove potremmo trovare questo dinosauro in questa nuova location molto molto carina che sembrerebbe essere per lo più una location sotterranea come possiamo vedere con probabilmente all'interno poi anche un dinosauro e comunque per quello che riguarda i dinosauri dovrebbero comunque arrivare non appena la neve si scongela sappiamo che poi ci saranno di varie dimensioni quindi vedremo poi come saranno anche in game sicuramente in arena difficile che ci siano quindi potremmo sicuramente trovarli solo nelle pubbliche poi questo è ovviamente ancora a vedere fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti cosa avete pensato questa prima vista questa nuova città che sembrerebbe essere per lo più sotterranea comunque e passiamo adesso però a un'altra città parliamo di uno dei ritorni più attesi ovvero quello di pinnacoli pendenti iniziamo quindi con questa prima novità che riguarda ovviamente lo scioglimento della neve molto molto importante per ovviamente far apparire insomma la città di pinnacoli pendenti esattamente dal 7 gennaio alle ore 15 dovrebbe incominciare a sciogliersi piano piano tutta la neve ovviamente è strutturato in fasi tutto questo avvenimento quindi ci sono sicuramente tante fasi all'interno dei file di gioco che come possiamo vedere vi metto qui alla mia destra ogni fase ovviamente ha diciamo una nuova versione della mappa con chiaramente meno neve tra le altre cose come potete vedere nell'ultima fase si può chiaramente vedere che la neve si sciolta completamente tuttavia non sappiamo ancora in realtà se si scioglierà completamente quindi non avremo più il bioma della neve alcuni dicono che la neve ci sarà solo nelle montagne della parte insomma sempre in alto a sinistra alcuni dicono che un po' di neve rimarrà insomma è ancora da vedere comunque per il momento sembra che comunque si scioglierà completamente questo insomma per quello che riguarda la neve in tutta la mappa e per quello ragazzi che riguarda pinnacoli pendenti il quarto compleanno di questa bellissima città accade esattamente il 18 gennaio quindi il 18 gennaio compie ben 4 anni pinnacoli e come possiamo leggere esattamente in quel giorno è programmato un aggiornamento non si sa se 19.10 o 19.20 deve essere comunque un aggiornamento molto molto grande e viene anche citato nella sfida elimina un avversario a pinnacoli pendenti però questa missione riguarda la settimana numero 8 quindi molto probabilmente esattamente il martedì insomma del 18 gennaio quando ci sarà insomma questo aggiornamento verrà probabilmente decriptata all'interno dei file di gioco proprio tutta la versione di pinnacoli pendenti che non si sa se è ancora quella classico G oppure è diciamo un misto tra le varie pinnacoli è ancora da vedere comunque questa pinnacoli dovrebbe tornare quindi dalla settimana 8 perché? perché c'è una missione che per l'appunto devi uccidere un avversario in questa città quindi dalla settimana 8 in poi di questa stagione potremmo vedere finalmente il ritorno di pinnacoli intanto vi lascio anche ragazzi una bellissima clip che mostra come si scioglierà piano piano la neve e il ghiaccio chiaramente dove è sommersa insomma questa città quindi piano piano con i vari stage insomma con le varie fasi vedremo anche piano piano lo scioglimento di questa bellissima città che poi tornerà quindi ragazzi dalla settimana 8 in poi quindi esattamente in quella settimana potremmo avere sicuramente il ritorno di questa città che verrà probabilmente decriptata con la settimana 7 quindi con l'aggiornamento 19.10 o 19.20 quindi ragazzi entro la fine di gennaio se tutto va bene dovremo comunque avere la città di pinnacoli pendenti che verrà inserita quindi nella settimana numero 8 detto questo spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile noi ci vediamo domani come ogni giorno alle 17 se non sei ancora iscritto iscriviti e lascia un bel like mi raccomando ci vediamo domani ragazzoli bella ciao 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 ciao